Si ringrazia Merci10 per aver reso possibile questo video. Su Romelu Menama Lukaku Brignoli, che è un giocatore belga di origini congolesi, è inoltre il miglior marcatore della nazionale belga. Ha giocato con le giovanili dell'Ierse per poi trasferirsi a 16 anni per 2,5 milioni alla Landerlecht. Il 24 maggio 2009 debutta in Pro League. Poi alcune settimane dopo realizza anche il suo primo gol, ai danni di Ozult e Maregem. Nella stagione 2009-2010 entra stabilmente in prima squadra e gioca i preliminari di Champions League persi contro Lione. Segna nella stessa stagione all'Atletico Bilbao. Questa rete aprì le danze alla partita che poi finì 4-0. Il 6 agosto del 2011 passa ufficialmente al Chelsea per circa 22 milioni di euro e sceglie la maglia numero 18. Fa il suo sordio subentrando a Fernando Torres. Il 13 maggio del 2012 fa il suo sordio invece da titolare, nella gara contro il Blackburn Rovers. Il 19 maggio vince la Champions League, ma rifiuta di alzare la Coppa perché lui non ritiene di averla vinta, dato che non giocò mai. L'11 agosto del 2012 viene girato in pressio al West Bromwich e con loro sigla un gol contro il Liverpool alla prima giornata di campionato. Partita che poi finirà 3-0 per il Wembley A. Nell'esterno del 2013 torna il Chelsea e disputa la finale di Supercoppa Europea, che il Chelsea perse con un suo tiro al dischetto fallito. Il 2 settembre del 2013 venne seduto in pressio all'Everton. Dopo essere tornato a base, le Toffis lo acquistano per una cifra vicina di 35 milioni di euro. È l'acquisto più costoso della storia del club. Il 21 novembre 2015 riesce a superare la soglia dei 50 gol in Premier League. L'8 luglio invece, del 2017, viene acquistato dal Manchester United, dove ritrova José Mourinho, allenatore che lo aveva lanciato al Chelsea. Viene acquistato per una cifra vicina ai 75 milioni di sterline, paragonabile a 85 milioni di euro. Fa il suo esordio nella Supercoppa Europea disputata a scopi contro il Real e va a segno, ma il suo gol non basta per portare a casa almeno i supplementari. All'esordio con il Red Devils in Premier League realizza una doppietta nel successo casalingo contro il West Ham. Il 30 dicembre, in seguito all'un violento infortunio e uno scontro con Wesley Ote, è costretto ad uscire in barella con la maschera d'ossigeno. Romelu è riuscito a far fare per svalenza a qualsiasi club in cui abbia giocato, con una sola parola, immenso.